Ma, ma, il Dio sempre ci è presente, ci vede e ci sente, pensa spesso al peccato, a Gesù la morte è adatto. Vita breve, morte certa, nel morire mora incerta. Un'anima sola si ha, se si perde, che sarà? Presto finirà. L'eternità non si finisce mai. Amen. Bravissima, brava. Complimenti alla Sorbise. Tutto sei bello, Maria, non manca. Complimenti alla Sorbise, fratto Mustari. Grazie, grazie a tutti quanti. Ciao. Mi viene venuto a cantare con i miei fratelli, la mia mamma da Sorbo San Basile. Viva la Sorbo! Sì, devono dire un pezzo. Sopro voleva che mi coltivano a andare, che non avevano letto, non avevano l'altro giorno. E non ci potremmo cuccare nessuno, perché ognuno avevano i mariti, ognuno avevano le mamme e tutto. Bravissima. Vincenzo, ma ne facevano una partita di ricotti. Quando morirono su Vincenzo, poi gli istituti, su Peppino, su Micuzza, su Zianina. E come dice quel paesano, che è l'amico del Zio Torri? Eh, non si diceva. Come non avevano una partita di ricotti, ma ne avevano una partita di ricotti. E come si chiamava quello venuto là? Lui, Vincenzo proprio, mio Dio. Però, che l'altro amico, tu ti ricordi che era quell'altro amico? No, fino a questo momento non lo aveva in mente. Se mi vede la mente, ti scrivo. Vabbè, ciao, brava. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.